Buona la prima per i ristoratori pesaresi che a partire da oggi con il ritorno delle marche in zona gialla e le misure del nuovo decreto hanno potuto riaccogliere la clientela nei tavoli esterni o all'aperto dei propri locali. Riaperture parziali dunque e accompagnate da maltempo e da una debole pioggia sopraggiunta proprio negli orari del servizio del pranzo. Condizioni climatiche certamente non favorevoli per i ristoratori, i quali però non si sono lasciati scoraggiare. Questa prima giornata sicuramente l'entusiasmo da parte di tutti noi del nostro settore c'è perché non vediamo l'ora di riuscire a fare il nostro lavoro. Dopo tanto tempo che siamo fermi la clientela bene o male sta prendendo bene queste riaperture anzi voglio dire oggi lunedì ci sono delle prenotazioni ma non è così eccessiva però si vede un discreto movimento soprattutto per le feste tipo il primo di maggio, sabato, domenica quindi il movimento e l'interesse c'è. Qualche prenotazione c'è, non grandi cose ma speriamo che non piova, il problema è il tempo, solo il tempo. Per i prossimi giorni sempre sulle prenotazioni come vi state organizzando? Poche cose perché sappiamo che il tempo è brutto, speriamo che nel weekend sia bello, il problema è il tempo adesso a questo punto, tempo e temperature. La ripresa ancora è stata lenta, abbiamo solo avuto due prenotazioni, è già tanto secondo me di averne due, però la voglia delle persone di uscire c'è, ci hanno chiamato anche per il fine settimana per prenotare il primo di maggio, però siamo stati cauti, non prendiamo prenotazioni perché sicuramente sarà difficile gestirle insomma, anche perché spero che gente ce ne sia. Necessaria quindi anche una riorganizzazione degli spazi che per alcuni locali ha visto un'implementazione dei posti nelle aree esterne. Io ho un piccolo spazio all'entrata in cui posso tenere aperto, ho sempre avuto la copertura, ho dei teli se dovesse arrivare la pioggia come in questo momento, per le temperature fredde mi sono organizzato con dei funghi che se fin dove arriviamo ce la facciamo, ecco, dovrei avere altri tavolini all'esterno sulla strada, però aspettiamo quelli perché insomma diventa un problema. Noi abbiamo i tavoli che avevamo già prima precedentemente, adesso vediamo se possiamo allargare, chiedere qualche permesso, ma per adesso partiamo con i soliti posti abituali. Molti chiedono se posso stare all'interno, vicino alle finestre, però purtroppo non si può, quindi bisogna essere tassativi. Il problema è che mentre la gente mangia e comincia a piovere, non sai come fare, è un bel problema. A parte il tempo che non è dei migliori, però ci siamo organizzati mettendo fuori i tavoli, quest'anno ci hanno dato anche un pezzo in più per il fuori davanti al locale e giusto per mettere un pochino più di gente e cercare di sopperire ai posti che abbiamo dovuto togliere mantenendo le distanze. I fronti su cui poter lavorare sono due. Uno è quello del coprifuoco alle 22, di spostarlo almeno di un'ora o due sarebbe meglio. Poi l'altra battaglia da fare è quella nel fare ripristinare il locale all'interno e non solo all'esterno, anche perché voglio dire, è inutile che il primo di giugno noi possiamo aprire a pranzo, a giugno, quando nessuno vuole stare dentro, non vogliono stare tutti fuori. Il problema è adesso ed è soprattutto la sera. Almeno il coprifuoco allungarlo di un'ora in modo che si può fare la cena anche più tranquilli. È certo che se ci fossero qualche posto dentro, magari limitati, sarebbe il massimo. Almeno a metà della capienza, un terzo, quello che vuoi, però aiuterebbe molto certamente. Certamente con la pioggia è un limite operare solo all'esterno. Poi noi abbiamo, avendo la tenda, già se fa una piccola pioggia riusciamo a sopprire questo deficit. Il fattore coprifuoco incide per la cena. Noi ad esempio facciamo la pericena, non proprio cena. Per la cena, secondo me, per ristoranti, vero e proprio, è limitativo.